Con determinazione della conferenza dei capigruppo del 20 febbraio, il Presidente del Consiglio, Giovanni Magri, ha convocato il Consiglio Comunale Monotematico in adunanza aperta per giorno 27 febbraio alle ore 18, presso la Sala Consigliare del Palazzo Municipale. Un Consiglio monotematico in cui l'unica nota all'ordine del giorno è la proposta di deliberazione dell'istituzione del IV Policlinico Universitario Siciliano. Da giorni il tema riguardante il Policlinico continua a far registrare una grande mobilitazione in città, tra raccolte di firma indotte dal gruppo di lavoro dei ragazzi universitari e singoli cittadini, e sit-in come quello di sabato scorso denanzi il Comune, organizzato dall'Associazione Caltanissetta Sicura, sino alla conferenza dei sindaci della provincia avvenuta ieri mattina.